Questo programma permette di realizzare piani di sicurezza e coordinamento, piani operativi, PIMUS e fascicoli dell'opera secondo il testo unico della sicurezza adeguato al DLGS 106 del 3 agosto 2009. Per prima cosa andiamo ad analizzare gli archivi generali del programma. L'archivio Rischi contiene una serie di schede con i rischi più comuni che possono presentarsi in cantiere. Le schede presenti possono essere modificate o integrate a piacere, sia direttamente che tramite il copia e incolla da altra documentazione esterna. È possibile utilizzare una funzione di ricerca per visualizzare una determinata scheda. L'archivio è facilmente integrabile. Posizionandosi infatti nella prima riga vuota disponibile, posso inserire un codice numerico, alfabetico o alfanumerico e la descrizione del rischio. La memorizzazione della riga inserita viene semplicemente cambiando riga. La scheda bianca creata può essere inserita direttamente poi, oppure sempre tramite il copia e incolla anche da documentazione esterna. Se ho la necessità di cancellare una scheda erroneamente inserita, seleziono l'intera riga e premo il tasto cancio. L'archivio delle fasi contiene una serie di lavorazioni che possono essere inserite nel proprio piano. Queste lavorazioni sono divise in tre livelli, la fase principale e sottofasi di primo e secondo livello. Queste fasi sono già complete di rischi, macchinari e lavoratori associati, sia a livello di fase principale che di sottofasi. Sono comunque modificabili, come abbiamo visto prima anche per gli altri archivi, sia dal punto di vista delle descrizioni che dal punto di vista di rischi associati. Con un tasto adesso del mouse possono aggiungerne ulteriori o eliminarli, sia come macchinari che come lavoratori. Anche le stesse schede rischi, macchinari e lavoratori presenti possono essere modificate senza che questo agisca nell'archivio generale dei lavoratori, dei macchinari o delle fasi. Se voglio integrare questo archivio con ulteriori fasi, posso selezionare una di quelle presenti e con il tasto destro del mouse attivare le funzioni previste. Ad esempio, supponiamo di voler inserire una fase come ultima, premiamo questo tasto Aggiungi fase e inseriamo le descrizioni richieste. Premendo OK viene creata una fase di livello principale, quindi da qui posso inserire la descrizione di questa fase. Anche in questo caso la memorizzazione avviene semplicemente cambiando nodo e posso eventualmente aggiungere sia delle sottofasi che associare dei rischi macchinari e lavoratori. Se invece voglio eliminare una qualche fase inserita erroneamente, sempre con clic destro, premendo Elimina, posso eliminare quello inserito. Andiamo ora nell'archivio Macchinari ed attrezzi. Sulla sinistra abbiamo l'elenco di tutti i macchinari ed attrezzi previsti dal programma, divisi in quattro categorie. Ad ogni macchinario sono associati già dei rischi. Come già visto in precedenza, posso modificare le schede inserite, posso aggiungere o togliere eventuali rischi associati al macchinario. Poi per ogni macchinario sono riportati anche i valori della vibrazione. Quindi a seconda che la vibrazione venga trasmessa per un determinato macchinario alla mano-braccio o al corpo intero, si vedrà selezionato una di queste due caselle. E poi viene riportato il valore dichiarato della W e il fattore correttivo. Precisiamo che questi sono valori medi presi dalla banca dati dell'ISPESL, ma non specifici per una determinata marca di macchinari. Quindi andrebbero modificati con i valori dichiarati proprio dal produttore del macchinario che dopo sarà utilizzato in cantiere. Questi valori vengono infatti utilizzati successivamente per il calcolo del rischio vibrazioni. Anche questo archivio naturalmente può essere integrato con ulteriori macchinari o attrezzi magari non previsti nell'archivio generale. Veniamo ora all'archivio lavoratori, che contiene una serie di figure professionali che possono essere presenti in cantiere divise per categorie di lavori. Anche in questo caso ogni lavoratore presente ha già sia dei rischi che dei dpi, cioè dispositivi di protezione individuale associati, ma vale quanto detto per tutti gli altri archivi, che possono essere sempre con tasto destro, integrati o eliminati, tenendo conto che si sta lavorando nell'archivio generale e quindi quando questo lavoratore sarà inserito nel proprio piano subirà questa modifica portata. Le schede inserite, naturalmente, anche queste possono essere modificate tramite il gestore testi presente e la memorizzazione di eventuali modifiche apportate avviene semplicemente cambiando nodo. Vediamo ora l'archivio del dpi. In questa tabella sono riportate le prime otto schede, sono generici dpi che riportano naturalmente una descrizione e le misure di prevenzione per chi utilizza questi dispositivi. Invece dal codice 101 in poi sono specifici dpi dell'udito che vengono utilizzati poi dalla procedura di calcolo del rischio rumore e per essi viene riportato anche questo valore L che è l'attenuazione data dal dpi. Naturalmente questo archivio è integrabile, è modificabile come abbiamo già visto per l'archivio dei rischi quindi basta posizionarsi sulla prima riga vuota disponibile inserire un codice, inserire la descrizione del pi e dopo compilare la scheda bianca che si crea e eventualmente se è un dpi dell'udito si può indicare anche il livello di attenuazione. L'archivio dell'attività invece contiene una serie di attività che vengono utilizzate poi per la valutazione del rischio rumore. Ad ogni attività inserita sono stati riportati i valori in decibel di LIQ e sono valori naturalmente anche questi in medi che sono stati inseriti e quindi per fare una valutazione corretta andrebbero misurati in cantiere le varie attività seguiti dai lavoratori in modo da poter inserire i valori effettivamente registrati in cantiere e fare una valutazione corretta del rischio del rumore. Adesso vediamo la seconda parte di questo menu. Allora, l'archivio dei responsabili in questo archivio posso inserire tutte le figure che saranno dopo presenti nel mio cantiere. Nell'archivio generale ci sono già delle voci inserite utilizzate nei nostri esempi. Se voglio inserire un nuovo nominativo basta che premo il tasto nuovo viene associato in automatico già un codice e basta che vada a compilare le caselle indicate. A questo punto premendo il tasto salva il nominativo inserito viene aggiunto all'archivio. Se voglio cancellare un nominativo presente basta che lo seleziono e premo il tasto cancella. L'archivio delle imprese ha un funzionamento molto simile a quello visto appena adesso per i responsabili. Nell'archivio troverò già delle imprese inserite utilizzate nei nostri esempi ma premendo il tasto nuovo posso andare a inserire un qualsiasi tipo di impresa che mi possa interessare per i miei lavori e premendo il tasto salva dopo viene aggiunto in archivio. Stessa cosa se voglio cancellare un nominativo lo seleziono e poi premo il tasto cancella. Archivio dei dipendenti che può essere utile per creare un POS da indicare in un POS il funzionamento è lo stesso visto in precedenza col tasto nuovo creo un nuovo nominativo e una volta inserito lo posso salvare. Se voglio cancellare un qualche nominativo già inserito lo seleziono e premo il tasto cancella. Questi ultimi archivi che adesso vediamo sono uno successivo all'altro vengono sempre utilizzati dopo per la stesura del piano di sicurezza o del POS. Quindi le qualifiche sono quelle che vengono utilizzate in fase di creazione dei responsabili. Ce ne sono già una serie inserite però se ne voglio inserire ulteriori funziona come abbiamo già visto in precedenza creo un codice nuovo e la descrizione e quindi potrò utilizzare qualsiasi altra qualifica voglia inserire. Tipologie lavori è un archivio che viene utilizzato nel calcolo degli uomini giorno. Quindi ci sono varie tipologie inserite anche qua vale il discorso che può essere integrato c'è la percentuale di incidenza di questa lavorazione e la composizione della squadra tipo in numero di operai specializzati qualificati ai manovali. Documenti di cantiere riporta tutta una serie di documenti che possono essere presenti in cantiere quindi anche questi andranno richiamati poi nel piano di sicurezza. Naturalmente anche questo archivio può essere integrato. poi le aree in cui può essere suddiviso il cantiere mentre i controlli sono una serie di controlli che possono essere effettuati in fase di sopralluogo quindi nella fase di esecuzione e possono essere richiamati nei verbali di sopralluogo che si vedrà successivamente.